È mio padre in paradiso che mi ha fatto la grazia. Sto soffrendo, ma sono ancora viva e riesco a raccontarlo. Quello che ho visto non è bello da vedere. Quando mi sono voltata a vedere cosa accadeva ho pensato questo non è un vulcano, questa è la fine del mondo. Gladys è riuscita a scamparla. È una delle sopravvissute al miscuglio di lava, gas e cenere uscito dal vulcan de fuego a più riprese tra domenica e martedì. La devastazione che devono fronteggiare le squadre di soccorso dice tutto della situazione che sta vivendo il Guatemala. Sono ormai 99 le vittime accertate, di cui solo 25 identificate. Ma ci sarebbero circa 200 dispersi ancora da trovare. Chi può si allontana dal cratere del vulcano e si raccoglie in qualsiasi struttura possa accoglierli, come ad esempio le chiese. Sono 12.000 gli sfollati al momento, ma l'area interessata dalle eruzioni è abitata da 1.700.000 persone. Non tutti però vogliono andarsene, dicono gli uomini della protezione civile, e bisogna convincerli a muoversi in fretta perché sono possibili nuove eruzioni. Ci sono anche gli animali da mettere in salvo. Cani, tacchini, polli. I soccorritori pensano anche a loro. Altre squadre scavano metro a metro nelle città di El Rodeo e San Miguel Los Lotes, mentre in altri paesi si celebrano i primi funerali per quanti sono riusciti a trovare le spoglie dei loro congiunti da piangere.